Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Karen Kahn. Oggi vi voglio parlare di brain balancing, del protocollo per l'equilibrio del cervello. Anni fa, durante la mia pratica medica, ormai sono in pensione, alcune persone, forse il 5%, anche con acupuntura, terapie energetiche e altri protocolli energetici e olistici, davamo questo 5% appunto di persone che non aveva beneficio, oppure migliorava per due o tre giorni, poi tornava indietro, o gente che migliorava a passo di lumaca, diciamo. E quindi mi domandavo come posso aiutare questa gente a recuperare, cioè a migliorare più velocemente, a migliorare del tutto, senza spendere un fracco di soldi. Quello che scoprì era che questi cerotti di fotobiomodulazione, soprattutto questo, E.ON, che aiuta per lo stress e infiammazione, aiuta molto ad equilibrare il sistema nervoso, a volte in minuti, a volte addirittura entro qualche secondo. Ecco che adesso voglio condividere con voi questo protocollo avanzato dell'equilibrio del cervello, ma adesso vi faccio prima vedere il protocollo di base. Vediamo alcuni dei punti, questi 5 punti. È meno importante ricordarsi il nome del punto di acupuntura, è più importante ricordarsi i principi e a cosa servono questi vari punti. I cerotti E.ON hanno una carica positiva, quindi vanno sempre applicati sulla parte centrale del corpo o sul lato destro. Lo mettiamo solo sulla parte sinistra del corpo quando abbiamo un'infiammazione o un dolore, altrimenti sempre a livello centrale o sulla parte destra del corpo. Prendi quindi l'E.ON o I.ON, che è un cerotto di fototerapia, ne entra nella pelle, tutto funziona con la luce. Lo incolli su uno di questi 5 punti che vedi sullo schermo. Tante persone fanno il protocollo di notte, anche perché è un detox, una disintossicazione dolce. Io invece addirittura a volte li uso di giorno per sentirmi, insomma, per avere un detox, per essere più tranquilla durante il giorno, ecco. Io li uso mai da più di 16 anni questi cerotti, quindi non ho più crisi di guarigioni forti, insomma. Però per questo protocollo del brain balancing, l'equilibrio del cervello, magari non vogliono andare in negozio o in giro, insomma, con i cerotti troppo in vista e quindi va bene, fatelo pure di notte. Primo punto è quello al centro della fronte. GV 24.5. Quel punto è collegato a vari organi nella testa, incluso la ghiandola pineale e altri. Quindi ha anche uno stimolo sul cosiddetto terzo occhio. Mentre se hai problemi di sinusite, infiammazione, di quel tipo lì, questo aiuta molto. Lo incolli quindi sulla fronte per 12 ore di notte o 12 ore di giorno. Tanta gente mi dice, dottoressa, non è che io dormo 12 ore. Ho capito. Quindi a che ora ti svegli normalmente? Ad esempio, ti svegli alle 8 del mattino, allora vuol dire che metti il cerotto alle 8 di sera. Quindi metti per un allarme sul telefono o sull'orologio, così che ti ricordi quando mettere E.ON. Perché è bene usarlo per tutte le 12 ore. Questo è uno dei punti. Quindi dà uno stimolo a questi ormoni e può anche aiutare un'apertura spirituale. Un altro punto molto popolare è il secondo. Sotto l'orecchio destro. Quindi trovate la parte senza capelli. Vicino alla linea dei capelli, al di sotto dell'orecchio destro. Quindi va un po' più indietro rispetto all'orecchio. Non deve essere esattamente in quel punto lì. Non importa. Mettetelo lì, più o meno. Basta che sia sul lato destro, ok? Questo aiuta molto per chi soffre di nervosismo o chi ha paura. Aiuta molto a calmare la mente. E poi è abbastanza discreto come punto. Aiuta anche alla concentrazione. Il prossimo punto di cui voglio parlare è quello in cima alla testa. Lì. Proprio in cima alla testa. GV20. Quando parti dalle orecchie e traccia una linea immaginaria sulla cima della testa. Il punto più alto è la testa, insomma. Quindi incollati lì, Leon. Come incollarlo lì senza staccare tutti i capelli una volta che lo tolgo? Allora. Usa uno scotch dolce, se vuoi. Oppure mettilo sotto a una fascia per i capelli. Meglio evitare il metallo. Perché il metallo può riflettere onde elettromagnetiche. Quindi le concentra nella zona del cervello. Quindi forse non è la cosa migliore. Però una fascia per i capelli di plastica o di cotone, insomma. Può andare bene. O di un tessuto o qualsiasi. Oppure se avete un cappellino, un berretto, lo incollate all'interno del berretto. A testa in giù, ovviamente. La parte attiva verso la testa. Così nessuno sa che lo mettete. Quindi è fantastico per gli uomini che hanno il cappello, il berretto. O potete anche semplicemente togliere una delle due pellicine sul retro. Non è che funziona solo la metà del cerotto. E quindi se avete, appunto, se siete preoccupati di strappare troppi capelli quando lo togliete, staccate solo la metà della pellicola e perderete meno capelli ogni volta che lo togliete. Io a volte magari faccio la doccia quando mi dimentico e li tolgo al mattino quando faccio la doccia. E quindi con la doccia e un pelino di sapone si toglie molto facilmente. Questo punto aiuta molto ad elevare il tuo stato d'animo. Quindi se sei un po' giù di corda, stanco, un po' così, spompato, questo aiuta molto. Io lo chiamo il punto della felicità o il punto del benessere, della gioia. L'altro punto di cui volevo parlare con voi è sul retro del collo, quindi sulla nuca. Questo è menzionato in tutte le brochure della LifeWave come un punto di stimolo generico, perché questo si collega a tutti i canali Yang, sulle spalle, nelle braccia. Questo è un punto che aiuta a rilasciare anche molto calore corporeo. C'è anche un altro punto che non è qui sul diagramma, ma se salite un po' più su, appena lì, GV16, punto per la protezione dal vento. Se siete la persona che si ammala facilmente con un po' di vento, quando prende un colpo d'aria, diciamo, si può usare quel punto centrale, sempre sulla colonna vertebrale, sul collo molto alto. A me aiuta molto, perché io sono molto sensibile al vento. Mi ammala, mi viene subito la tosse o starnutisco. Quindi sui capelli, sul collo, insomma, GV16. E l'ultimo punto, che è in basso a sinistra sul diagramma, ecco, se partite dalla base della gola, andate un po' giù, appena sopra lo sterno, c'è un... Una piccola protrusione. Questo è un... Qui, in questo punto, c'è una ghiandola che aiuta il sistema immunitario. E quindi ad alcune persone dà un certo beneficio. Quindi questo era il protocollo normale. Due settimane, quindi ogni notte o giorno, 15 giorni. Tre cicli di cinque punti.